Grazie a tutti. Non è facile far girare un microfono e poi ci sono delle persone timide che hanno qualche problema a parlare in pubblico, allora vi prego di scrivere le vostre domande su un foglietto e di farmele arrivare. Io le leggerò così sarà più ordinata anche la discussione. Quindi ci possiamo accomodare e ringraziandola ancora una volta do la parola a Peter Brook chiedendogli di cominciare a parlarci della sua esperienza, della sua idea di teatro. Grazie. 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 In the last five minutes, I have received one shock after another. ho ricevuto uno sciocco uno dopo l'altro negli ultimi cinque minuti ho ricevuto uno sciocco uno dopo l'altro grazie but first this is better system no? yeah we now try new system we now try new system this 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 shhh this has been very carefully rehearsed as a comic routine è stata provata a lungo abbiamo fatto molte prove per farla diventare una routine un evento comico my first surprise five minutes ago this afternoon was to find how many ideas that I have always had on the theater which professor Marotti wished me to speak about have been destroyed l'ultimo gli ultimi shock che ho avuto in questi cinque minuti è di scoprire che le idee che ho avuto sempre sul teatro in cinque minuti sono state distrutte ma my first and deep conviction has been that a human relationship needs the right space and this is the worst space I have ever been in in my life sono sempre stato profondamente convinto che finché ci sia una relazione umana tra gli esseri umani ci voglia uno spazio giusto e questo è il peggiore che abbia mai visto in vita mia in questo spazio tremendo, freddo, scomodo, tremendo, orribile con una divisione non naturale e pomposa tra voi e il palcoscenico con mio grande stupore entro in un mare di calore questo mare di calore che è venuto da voi un momento fa questo mare di calore che è venuto da voi un momento fa ha due lati, ha due aspetti da una parte mostra qualcosa nella quale io ho sempre profondamente avuto profonda sfiducia che è il culto della personalità del regista che è molto pericoloso perché non significa che un regista deve essere invisibile o modesto ma il suo lavoro deve essere in equilibrio con tutti gli altri elementi che rendono il suo lavoro vivo e questo secolo è stato dominato dalla figura dominante del regista ed è stato una cosa non salubre perché ha reso il lavoro sia del regista che dell'attore perché quando una persona è troppo dominante l'altra persona dice anche io sono dominante o potere e quando si entra in una profonda stupidità perché non è l'autore, l'attore o il regista che sono da soli responsabili per un evento teatrale ogni singolo elemento ha la sua importanza paritaria se è al posto giusto e tutte le discussioni su chi ha ragione e chi ha torto sono inutili e dico questo per il grande calore con cui mi avete accolto un minuto fa ma allo stesso tempo questo calore dimostra qualcosa d'altro dimostra come il pubblico sia sempre l'elemento vitalizzante di ogni evento e nè il professor Marotti nè Isabella nè io stesso che hanno trasformato questo posto, questo luogo freddo in un luogo caldo e pieno di vibrazioni è la vita attiva di questa massa di persone che sono qui e qualcosa di così evidente è facilmente dimenticabile e cioè che il regista, l'autore, l'attore, lo spettatore sono tutti la stessa identica importanza ed è strano che nel teatro di Boulevard, il teatro popolare al pubblico non si dà mai questa fondamentale importanza questa importanza creativa ecco perché oggi, ora è molto importante sentire che parlare in questo momento posso essere guidato e sostenuto dalla natura del vostro ascolto è una cosa della quale io non posso essere responsabile da solo e neanche voi potete avere questa responsabilità se cercate di darvi una mossa e dite cerchiamo di ascoltare in modo più intelligente non funzionerà se io tutto il tempo penso chissà che cosa vogliono che io dica le parole non verranno ma se mentre parlo sentiamo qualcosa molto semplice cioè che c'è un contatto fra di noi voi mi aiuterete e di conseguenza io rinnoverò il vostro ascolto e di conseguenza io rinnoverò il vostro ascolto e questo non lo dico per quanto riguarda me stesso ma per dire che questo è ciò che ogni attore in ogni messa in scena ciò che l'attore ha bisogno per prima di andare di fronte a un pubblico perché un attore e un gruppo di attori hanno una possibilità molto particolare possono guardare l'uno portarsi l'uno con l'altro e possono recitare con tutta sincerità possono avere un rapporto con tutta sincerità l'uno con l'altro e se sono attori cattivi non buoni penseranno che ciò che ha veramente importanza è la qualità che si stabilisce fra me e te e sentiranno che se veramente ci convinciamo che l'uno con l'altro siamo veri e sinceri o dinamici posso vedere nei tuoi occhi che ciò che dico ti colpisce non sarà sufficiente ciò di cui abbiamo bisogno è qualcosa di molto più difficile molto più sottile che quando i due attori recitano l'uno con l'altro con un altro senso stanno con ogni minimo movimento all'interno del pubblico che accade all'interno del pubblico e in questo modo l'attore può sentire che ciò che dice non raggiunge il pubblico e questo lo sentirà come una privazione quindi il grande vecchio attore che parla della vecchia scuola dell'attore che parla ad alta voce perché ciò lo fa sentire importante è sostituito dall'attore che sa che non c'è significato in ciò che dice non c'è significato nella totalità della sua azione se nello stesso identico momento non include tutti gli spettatori questo significa che niente può rimanere sempre allo stesso livello quindi è possibile sentire nelle prove prima e poi nella messa in scena che per voi noi tre che stiamo qui in piedi sta diventando veramente una grande noia per gli occhi quindi in questo momento molto naturalmente cambiamo cambiamo scena ma non crediate che la battaglia sia già vinta perché dal momento che siamo seduti il quadro è cambiato ma l'energia è calata quindi adesso si avvertono molte molte possibilità forse ora può cambiare il ritmo qualcosa comincia a ridere di nuovo o forse improvvisamente senza alcuna relazione con ciò che accade nella quotidianità uno di noi fa un movimento improvviso e viene dall'altra parte e il quadro è cambiato un'altra volta e il quadro è cambiato un'altra volta e lo riusciamo anche ad ottenere che qualcuno ci parli in modo naturale dal pubblico adesso sentiamo che perché il risato e il ritmo animano il pubblico sentiamo il bisogno di qualcosa di molto più concentrato e quindi vediamo che se io prendo un bicchiere e lo alzo e l'attore guarda il bicchiere fa un strano rumore il ritmo cambia il suo tempo e beve molto molto lentamente improvvisamente c'è un vero silenzio nel pubblico ecco perché mi devo muovere tutto il tempo è molto vero le persone parlano di parole come se le parole fossero un linguaggio ma è chiaro che in un teatro in cui ci sono migliaia di lingue è curioso che avete detto che non si sentiva proprio nel momento in cui quella lingua era taceva perché stavo bevendo dei sorsi d'acqua ma dovresti cercare di parlare più lungo ok, io provo ok, io provo questa mattina pensavo questa mattina pensavo di una divisione temporale del teatro una divisione temporale del teatro e ho pensato che si può dividere il teatro in due il teatro che è utile non in due, no, in tre in tre il teatro che è utile quello che è inutile e quello che è dannoso il più difficile è il teatro che è utile perché penso che tutti siamo d'accordo che è bene che qualcosa sia utile e per le persone che lavorano professionalmente è la più alta soddisfazione pensare e sentire che il proprio lavoro non è utile soltanto a se stessi ma anche a altri quindi il desiderio di fare del teatro utile è molto forte questo ha portato nel nostri tempi al teatro politico a un teatro orientato su temi sociali con risultati molto diversi e a volte molto deludenti abbiamo visto come il teatro abbiamo visto come il teatro utile politico politicamente utile può diventare inutile o addirittura dannoso perché l'utilità di qualunque azione in teatro è ciò che le persone che sono nel teatro portano con sé quando escono dal teatro e vanno in strada quando un politico fa un discorso perché questo discorso può essere utile a lui ma inutile per il mondo un politico che fa un discorso convince un pubblico con grandi promesse usa parole forti come una vita migliore un mondo migliore e forse quando dice una vita migliore un mondo migliore per tutti voi forse ci crede anche a quello che sta dicendo perché quindi è una bugia questo? perché non è che lui intende dire sempre bugie ma la maggior parte del tempo sì ma non sempre perché succede così? perché lui sta facendo qualcosa che avrà una sua realtà soltanto nel futuro ma nel momento in cui ne sta parlando non è lì non è presente, non è reale sarà dopo le elezioni, l'anno prossimo, fra cinque anni e chiaramente quando finalmente quel tempo arriverà è bello che è dimenticato ma in una rappresentazione c'è soltanto un valore ed è esattamente quello che sperimentiamo insieme nel momento stesso in cui accade il bicchiere e l'acqua sono reali quando ci guardiamo l'uno con l'altro è reale se io ti dico ti sono veramente vicino, sono molto legato a te voi sapete immediatamente se questo è veramente vero in questo momento se questo è veramente vero in questo momento vi tocca profondamente ma anche se voi in questo momento avete un cattivo rapporto con la moglie, con il ragazzo oppure con la donna del marito anche se i vostri rapporti personali non sono buoni voi per un momento sapete veramente che due persone si possono ascoltare l'una con l'altra quel momento è esattamente l'opposto del discorso del politico che dice vogliamo creare una società con buoni rapporti uno può dire in parole che vogliamo una vita migliore in cui le persone sono più vicini, più sensibili, più rispettibili, più amici, più dinamici, più interessanti in un'altra possiamo dire a parole che vorremmo che le persone fossero più amorevoli l'una con l'altra, più rispettose in una società migliore in una rappresentazione, in una messa in scena o questo è qualcosa che può essere portato in vita oppure non c'è per niente non c'è affatto e questo ci conduce allo strano mistero del teatro in teatro puoi guardare qualcuno a cui nella vita non saresti mai di cui avresti alcun interesse nella vita la vita di qualcuno che tu consideri odiosa, repellente, disgustosa e puoi entrare profondamente nella realtà di quella persona ma quando ci sono due persone che sono in conflitto come dovrebbero sempre essere di solito nella nostra vita quotidiana siamo a favore di una persona o di un'altra in un contesto teatrale possiamo simultaneamente essere con i due opposti ed è proprio oltre questa posizione che il teatro può andare oltre il tema sociale politico ed essere effettivamente utile perché perché nell'intensa energia della rappresentazione ogni membro dello pubblico può capire e accettare la contraddizione può andare oltre le parti di uno o dell'altro e può raggiungere un altro livello di comprensione umana ciò significa che ogni spettatore per un breve tempo vive in modo più pieno di quando è entrato in teatro e questo è sempre il rapporto a delle persone in una determinata situazione sempre persone diverse in situazioni diverse l'energia ora deve essere forte, intensa la vita che avviene sulla scena deve essere molto vibrante il rapporto con il pubblico costantemente rinnovato e allora questo miracolo fisiologico, psicologico avviene allora ognuno improvvisamente è più sensibile, più intelligente, più capisce di più e ce n'è un altro di miracolo che avviene che migliaia di persone che quando sono entrate in teatro erano annoiate, ognuno aveva la sua opinione ed erano pure arrabbiate e che erano completamente separate dal proprio vicino provvisamente condividono questa visione più ampia in modo simultaneo perché stanno vivendo la stessa esperienza insieme quindi sia l'esperienza e il significato dell'esperienza ha una forza che non potrebbe mai avere se ogni persona fosse seduta lì al suo posto e poi che l'esperienza è un'apertura verso le contraddizioni di realizzare che la realtà è composta in ogni momento di contraddizioni le contraddizioni sono su molti piani allo stesso tempo e alla fine questo conduce al più incredibile e fondamentale fenomeno in teatro che è il fenomeno della tragedia nella tragedia tutto il pubblico è portato fuori dal proprio quotidianità assicurante e naiv per affrontare con occhi ben aperti il terrore dell'esistenza umana senza soluzioni senza teorie senza reazioni semplicemente guardando a questo inferno esattamente così com'è eppure il fenomeno è che questa azione non è deprimente perché? e qui dobbiamo renderci conto che c'è un'altra contraddizione che non può essere spiegata né capita con nessuna teoria che può essere sperimentata e ciò è a dire che l'espressione più terrificante del negativo e l'espressione totalmente opposta, contraddittoria del positivo può essere percepita nello stesso momento quindi mentre un melodrama può portare a delle conclusioni personali una tragedia crea un sentimento intenso di vita pura che mi porta molto semplicemente senza andare oltre oggi pomeriggio e vedere che qualunque cosa sia il tema e ci devono essere molti temi diversi il teatro è utile il teatro è utile quando l'esperienza di essere aperta a contraddizioni che normalmente non possiamo indurere essere aperti nei confronti di contraddizioni che di solito non sopportiamo accade in condizioni che allo stesso tempo ci danno delle possibilità che ci dà un'esperienza di energia positiva di forza positiva quindi usciamo dal teatro in qualche modo più forte di quando vi siamo entrati e se questo accade è stato utile andarci è stato valsa la pena e poi c'è un altro livello che io chiamo il teatro inutile che non fa questo ma che è inutile e dannoso abbiamo del tempo nella vita da riempire entriamo in un luogo e il tempo è usato in modo inutile e dannoso ah non dannoso scusate entriamo in un luogo invece di non fare niente il tempo trascorre in modo piacevole e riusciamo perché quindi dobbiamo lamentarci e va bene poi c'è un teatro dannoso per me il dannoso non è soltanto che una persona esce dal teatro e stupra e violenta delle persone il teatro è dannoso se in buona fede abbiamo dato due ore della nostra vita ad altre persone e usciamo dal teatro più frustrati e più arrabbiati di quando eravamo entrati e questo ci riporta in un cerchio a quello dove eravamo un po' di tempo fa un qualche minuto fa dove mi sedevo qui comodamente dove mi sedevo qui comodamente guardando Isabella se in questo momento preciso e unico che è il risultato di tutte le prove, di tutto il lavoro con l'attore, di tutto il lavoro con l'autore e con il regista se in tutto questo tempo noi non siamo stati cosci di voi voi invisibili come parte del mondo e voi presenti durante la rappresentazione senza saperlo allora all'interno del nostro lavoro diamo tutta la nostra energia a ciò che noi chiamiamo l'espressione di sé io uso te e tu usi me per esprimere le nostre insoddisfazioni personali io sfrutto questa situazione per dire professore quando ero ragazzo ho sofferto per i professori, non mi piaceva che qualcuno insegnasse ho sempre provato rabbia quando ho visto un professore o un insegnante di scuola e allora chiamo i professori e allora chiamo i professori perché noi ridiamo al momento che ridiamo vediamo il posto, il ruolo della risata la risata è una controbilancia senza risata lo saremmo già sul palcoscenico per fare non ho capito distruggere l'edificio and this is where there are no rules it's neither the church nor the critics nor what now today are called ethical committees quindi non è né la chiesa né le istituzioni né ciò che noi chiamiamo le istituzioni etiche che possano dire a un gruppo di persone cominciando a partire dall'autore e andare dalle persone che hanno scelto il lavoro di quell'autore nessuno può dire questo va bene o non va bene buono o non è buono da fare in questo momento ma se tutti non sono consapevoli che ogni azione pubblica ha un effetto senza saperlo si può diffondere qualcosa di negativo nel pubblico in un pubblico e questo piccolo pubblico che si può uscirà ne andrà nella società e portando qualcosa di ancora più negativo nel mondo negativo e questo invece di essere inutile dannoso diventa diventa inutile non dannoso diventa inutile inutile dannoso quindi portare tutto questo insieme a un punto molto concreto questa preoccupazione particolare questa preoccupazione particolare in fact can bring us to examine not only the big themes ci può portare a esaminare non soltanto i grandi temi ma ogni azione ogni parola ogni gesto ogni ritmo in relazione con una qualità di ciò che è stato vissuto dal pubblico e dall'attore insieme ecco perché non si può distinguere il dramma dalle prove e le prove dalla rappresentazione tutto ciò che precede la rappresentazione è una preparazione per un'azione comune per un'azione comune che sia inutile dannosa o utile dell'interno di di Grazie mille. Ma ho la prima domanda. Poi vorrei un po' citare una cosa che lei ha scritto sulla porta aperta e che dice l'essenza del teatro è racchiusa in un mistero che si chiama il momento presente. Ecco, come un attore si deve accorgere che in quel momento presente sta facendo un'azione utile, inutile o dannosa. Grazie mille. Grazie mille. Quando molti anni fa siamo andati in Africa con il nostro gruppo internazionale, tutti gli attori per molti mesi avevano fatto molti, molti esercizi. Adesso, in tutto il mondo, ma maggior parte di gruppi teatrali fanno. Questi esercizi non erano fatti per diventare acrobati. Né per usare il proprio corpo e con grandi virtuosismi meravigliosi. Infatti, la maggior parte dei nostri attori si muovivano molto male e sei mesi di esercizi non li hanno resi molto bravi. Una volta è venuto un acrobata dal circo a insegnarci. E ha rinunciato a ritornare. Quando siamo andati in Africa eravamo circa venti persone, tutti di razze diverse, facendo molti movimenti improvvisati che venivano tutti dagli esercizi che avevamo fatto. E allora ci si chiede qual era l'effetto di questi esercizi. E in realtà avevano reso i vari elementi del gruppo molto, molto più sensibili l'uno verso l'altro. E in realtà avevano reso i vari elementi del gruppo molto, molto più sensibili l'uno verso l'altro. Come un quartetto d'archi o con una piccola orchestra può essere sensibile l'uno all'altro. Anche una persona impacciata che faceva un movimento impacciato aveva comunque una sensibilità all'interno del suo corpo che lo rendeva più sensibile al movimento, a quello che il movimento voleva esprimere. Un giorno abbiamo recitato in un villaggio dell'Africa dove ogni membro del pubblico aveva un corpo bellissimo. e le avevamo visti ballare dopo il nostro spettacolo. E ci sentivamo proprio molto intimiditi, impacciati all'idea di aver fatto vedere i nostri lavori, i nostri movimenti quando avevamo i loro meravigliosi movimenti. Quindi dopo siamo andati dai capi del villaggio e ci siamo scusati. E abbiamo detto scusate se abbiamo portato i nostri movimenti impacciati in un mondo in cui ogni gesto dei vostri meravigliosi corpi è stupendo. e i capi del villaggio si sono parlati un momento fra di loro e hanno scosso le loro teste. E il capo del villaggio ha detto che per centenze abbiamo tutti fatto un numero molto piccolo di movimenti per cecoli abbiamo fatto tutti dei piccoli movimenti non piccoli, un certo tipo di movimenti che sono dei movimenti che sono proprio del nostro background etnico. Questi sono i nostri movimenti. per noi hanno grande importanza la più grande importanza vedere che nel mondo ci sono tutta questa infinità di movimenti che noi invece non abbiamo mai provato. ed è in questa direzione che noi possiamo dire che ciò che accade nel momento presente è l'unico momento di verità teatrale e in quel momento l'azione teatrale riflette qualcosa di più del banale senza perdere il banale perché se rifiutiamo il banale neghiamo la nostra esistenza ordinaria ma se rimaniamo in contatto col banale glorifichiamo il peggio della nostra esistenza ma se l'impacciatezza del banale può riflettere può riflettere qualcosa che va oltre che è più ricco nel momento stesso in cui accade allora il momento presente si apre oltre quello che sarebbe stato senza l'azione. prima di cominciare con le domande degli altri mi concedo una domanda io io ho avuto la fortuna di essere uno spettatore costante faccio lo spettatore di professione lo spettatore costante di Peter Brook il primo spettacolo che ho visto di lui era la tempesta con John Gilgoth alla fine degli anni 50 credo poi era uno spettacolo pittorico meraviglioso con un grandissimo attore e uno spazio scenico meraviglioso poi poi ero avanti sulla costa azzurra con Gordon Craig vidi il suo film moderato cantabile un film tratto da un romanzo di Marguerite Dura che narrava il dramma interiore di una signora Bene che vive in provincia e che dalla visione della morte di una donna sconvolge tutta la sua esistenza poi l'anno dopo 62 ho visto il Re Lear con Paul Schofield una messa in scena completamente diversa cioè un dramma assolutamente spoglio una scena di ferro arrugginito e una tremenda crudeltà degli attori la domanda da questo fu detto allora fu detto allora sono ancora a 62 e ce n'è ancora si parla allora di un Re Lear becchettiano oggi a 30 anni di distanza Brook arriva invece non più a uno Shakespeare becchettiano ma in qualche modo a un Beckett che nella sua visione diventa uno Shakespeare in qualche modo ecco come sei arrivato a questo Beckett come sei arrivato a questo Beckett come sei arrivato a questo In 1962 ho fatto King Lear. Mi sembra che un po' ubriachetto in un pub ho detto a un giornalista qualcosa tipo questo King Lear deve essere qualcosa che assomiglia a Beckett. Per il resto della mia vita sono ossessionato dal fatto che avevo fatto un King Lear sulla lettura di Beckett. Questi sono scherzi di giornalisti. Shakespeare è Shakespeare, King Lear è King Lear e Beckett. Ora le persone mi chiedono perché hai fatto Beckett oggi? Perché non l'hai fatto 30 anni fa? Ma come si fa a rispondere a questo tipo di domanda? I can only try to make a link with what I've been opening up all afternoon. Posso solo cercare di creare un legame con quello che mi sto cercando di aprire oggi pomeriggio? Ogni momento si fa una scelta, non intellettualmente, ma distinto. E la scelta dell'anno scorso non è quella di quest'anno perché tutto il mondo cambia. E in un certo momento una cosa sembra giusta, quella adatta e in altri momenti è diverso. I've known Beckett's Aulé Bourgeois for many, many years. Conosco Aulé Bourgeois di Beckett a molti, molti anni. But felt that at this moment it's a play that has a particular quality that is meaningful and useful. Ho sentito che in questo momento, però, è un dramma che ha una qualità particolare che può avere un significato e può essere utile. Now, as the interest of doing what you call a mise-en-scene ora, per quanto concerne l'interesse di fare uno spettacolo is not a formalistic one non è un formalistica come si inserisce questo spettacolo nella mia carriera artistica molto più semplice quale qualità può apparire nel pubblico attraverso questi ingredienti oggi? e ho sentito che questo dramma, in questo momento tocca qualcosa proprio al momento esatto e ovunque l'abbiamo recitato specialmente con un pubblico di giovani che non sa nulla di come a Beckett fu preso all'inizio fu ricevuto 20 o 30 anni fa ci rendiamo conto che il dramma non è più un dramma pessimistico o ad avanguardia è un'espressione di una realtà umana che ci è molto vicina ed è una tragedia che ci dà coraggio è un grande piacere particolare per me è che Beckett è proprio unico tra tutti gli autori che abbiamo conosciuto non solo scrivendo il suo dramma ma scrivendo ogni dettaglio dei gesti, dei movimenti, del ritmo quindi rappresentare Beckett significa che già tutto l'aspetto esterno dello spettacolo è già fatto questo per un regista non è proprio una vacanza significa che si crea la possibilità di dare tutta la propria attenzione a ciò che accade in modo segreto segreto all'interno del dramma e non ci hanno quelle situazioni di panico in cui ogni regista conosce che dice beh sarà meglio che lei va a destra o va a sinistra ecco perché faccio Beckett oggi io suggerirei di fare qualcosa che forse ti ricordi era un grande principio del nostro amico Grotowski 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 di solito chiedeva appunto di porre delle domande così come abbiamo fatto oggi e poi le leggeva tutte tutte insieme e allora cercava o di dare una risposta che le includesse tutte oppure non ne includeva nessuna applausi proviamo a leggere prendo casualmente l'ultima che è arrivata gentile maestro vorrei sapere perché il suo spettacolo giorni felici di Beckett starà al teatro vascello solo quattro giorni non è possibile procrastinare lo spettacolo come ha trasformato la non comunicazione beckettiana in una nuova comunicazione che coinvolge attori e spettatori qual è stata la chiave per trasformare Beckett e il suo silenzioso linguaggio in vita attiva how does Beckett's work succeed to make us leave the theater more positive or does that have to do with our explanation just now of tragedy or don't we leave the theater more positive after Beckett il suo ultimo spettacolo Beckett si caratterizza per assenza di movimento è il segno di una potetica teatrale che si è in qualche misura esaurita perché un autore irlandese come Samuel Beckett scrisse alcune opere come o le beau jour in francese per poi tradurre lui stesso in inglese qual è il senso del tradurre? camminando dalla stazione Gare du Nord al vostro teatro Gare du Nord sono rimasto stupito per i tanti bazar orientali indiani siete stato influenzato da queste presenze per decidere di realizzare il Mahabharata noi siamo arrivati prima i bazar sono arrivati dopo qual è il rapporto fra il King Lear teatrale e quello cinematografico? lei ha girato un film intitolato incontri con uomini straordinari ci può dire come il suo teatro è metabolizzato gli insegnamenti di Gurdjieff? in che modo tiene conto delle reazioni del pubblico quando costruisce la struttura di uno spettacolo nella fase conclusiva delle prove? Gurdjieff ha avuto influenza nel suo modo di fare teatro? alcuni studiosi accreditati hanno preso a paragone Artaud con due grandi figure del Novecento Stanislavski e Gurdjieff a me sembra un po' forzato e molto impreciso qualcosa fra lo sfoggio di cultura e la tendenza a confrontare tutto con tutto personalmente vedo più le differenze che non le somiglianze lei è un uomo di teatro e per di più ha fatto un bellissimo film sulla vita di Gurdjieff e per qualche tempo si è occupato di teatro della crudeltà potrebbe dirci il suo punto di vista? che rapporto esiste fra il lavoro sull'attore di Peter Brook e le tecniche di Stanislavski? l'attore deve secondo lei entrare nel personaggio o deve impersonarlo con distacco? in una tragedia contemporanea nel tentativo di scriverla e quindi interpretarla il coro può assumere il ruolo del protagonista e quello dell'antagonista facendo sparire quindi quei ruoli privilegiati? farà dei corsi nel futuro si intende in margine o corsi qui è più importante la fedeltà al testo o la sua comunicabilità al pubblico? quanta libertà può avere un regista sul testo per avvicinare e coinvolgere il pubblico? e tutto ciò non può arrivare a tradire l'arte? o l'arte è tradimento del testo? a parte i problemi tecnici della traduzione può dirci come ha vissuto la scollatura di intenzioni vocali fra la sua intensità e la timida tristezza della traduttrice? come pensa? noi abbiamo ricevuto le vostre intenzioni il teatro Ateneo e il dipartimento di spettacolo sono stati chiusi perché mal gestiti può fare a noi studenti una proposta di come rifondare un teatro universitario? può parlarci del suo film non tradotto nella versione in italiano Meetings with the Remarkable Men? può l'immaginazione salvare il teatro del nuovo millennio? per creare l'atmosfera positiva e di grande attenzione all'interno del teatro l'intera compagnia e gli attori dovrebbero essere in perfetta armonia e equilibrio con il pubblico ma perché ciò avvenga ciascuno deve avere la consapevolezza del proprio sé e ciò per molti attori scusate non si capisce per molti attori questo dovrebbe essere difficile vorrei sapere come lei ha raggiunto questa maturità questo equilibrio come consiglia ai giovani attori di raggiungere questa maturità dove dovrebbero rivolgere la loro attenzione in breve lei parla di teatro noioso e teatro immediato che combina teatro rozzo e teatro sacro cosa significa teatro rozzo e teatro sacro? inoltre vorrei sapere cosa significa gesto non stilizzato ma artistico e naturale? come fa un attore a esprimersi con qualità se i rarissimi registri di qualità italiani sono letteralmente accaparrati? lei come giudica la nostra situazione teatrale italiana? la relazione utile insieme inutile piena di vita totale nella sua concordanza di opposti che si deve stabilire fra attori e spettatori non è rovinata dalle repliche dello spettacolo? Artaud diceva che la festa della crudeltà deve avere luogo una sola volta altrimenti non è più un atto totale che coinvolge mente e corpo cosa può fare un attore per essere sincero con lo spettatore e offrirgli la totalità della propria esperienza? anche dopo la centoventesima replica basta ora con i foglietti ovviamente nobody here can imagine that I can come here this afternoon and solve great problems like what should be done with the Teatro Ateneo nessuno penso che io vengo qui oggi pomeriggio e posso risolvere i grandi problemi di quello che dovremmo fare per il Teatro Ateneo and many of the questions that have been read out are good questions if they remain as questions without answers sono domande molto buone se rimangono senza risposta I would suggest that it would be very valuable for you to print the whole list of these questions to be available for everyone because there are many questions there that are permanent questions that are very interesting if they're looked at like for instance a question about a text about an actor and a text in the present moment for me to give you a few simple cliches is of no use whatsoever these are real questions what is a text? are we responsible entirely to the author and being responsible to the author means that nothing nothing must change over the centuries or are we modern people who say to hell with that let's bring something at all costs into modern life this is a genuine question slavish obedience to the past is sterile slavish obedience to modernity making contemporary is equally sterile so there is a question without an answer but a real question each time one has to really consider this is Hamlet in a leather jacket more alive than Hamlet in an Elizabethan costume yes and no there isn't a virtue in either one can help in one circumstance and not help in another and anyway is that what is important is that where the life comes these are questions and many of these questions are in that category I'd say that the there are perhaps in those two central questions one is Beckett and the other is Gurdjieff which emerge because they recur and recur all the time he says he says he says that all these questions he are public so as they are and they remain questions to reflect and I can just tell you all that he said but the two questions he said are that on Beckett and on Gurdjieff e quindi se modernizzare o meno il testo quando Beckett ha scritto giorni felici ha scritto in inglese il dramma essendo un irlandese e quindi ha scritto in una forma molto particolare di inglese e irlandese che è molto rozza che è molto ruvida che ha la scelta con molta cura ma essenzialmente è un linguaggio molto popolare il che corrisponde a una buona scrittura in inglese per esempio Shakespeare a volte usa la lingua più ruvida più rozza più volgare che può e simultaneamente contrasta questo con una lingua molto raffinata molto pura questo Beckett l'ha fatto andando dall'inglese al francese nella lingua francese la qualità è la purezza della lingua quando è usata bene quindi invece di scrivere in una lingua ruvida l'ha espresso esattamente gli stessi pensieri in una lingua molto pura che coglie le buone qualità di una buona scrittura francese l'inglese buono è spesso il francese buono è trasparente per esempio questa accade nella poesia classica italiana che è questa limpidezza di una frase che ha un unico significato questa forma di espressione musicale in un senso molto sottile quindi lavorare sul dramma di Beckett con un personaggio che non si può muovere per nulla e un altro personaggio che ha movimenti minimi ha minima possibilità di muoversi ci rendiamo conto che non avrebbe senso rendere il dramma in modo coreografico perché se si ignorano le tasgalie di scena di Beckett e si facesse il dramma su un palcoscenico nudo sono i personaggi che si muovono in molte direzioni anche se in modo agitante e dinamico questo movimento distruggerebbe l'altro movimento che è questo movimento sottile delle parole e della musica in francese che è l'unico movimento che dà al dramma la sua forza unica e quindi nel caso di questo dramma la forza del dramma e il motivo per cui il dramma esiste e il motivo per rappresentarlo è in questa struttura minimalista di parole musicali e certi gesti in un'immagine fissa questa è la natura del dramma e quindi l'unica forza è di seguirlo e di andare con esso che significa un rispetto scrupoloso per il testo ma soltanto per i motivi di cui ho appena parlato in un altro dramma il testo può non avere la stessa forza ma la situazione può richiedere qualcosa di completamente diverso per esempio un movimento fisico quindi vediamo che non c'è una regola generale è soltanto la qualità della relazione il momento in cui accade in relazione a quel particolare tema qualcuno ha chiesto a proposito di Stanislavski in Russia in Russia nella Russia sovietica the criminal lunacy criminal lunacy pazzaria criminale era di opporre Stanislavski to Mayerhold come se l'uno avesse ragione e l'altro avesse torto il metodo di Stanislavski è per lo più datato ma nel significato che Stanislavski cercava c'è qualcosa di molto importante per tutti quelli che lavorano in teatro e la sua ricerca conduce ad un certo il suo metodo conduce ad un certo tipo di risultato che non è meglio né peggio di quello di Mayerhold che era completamente diverso e non c'è una scelta ideologica da fare né una pratica ogni singola possibilità di vita umana è legittima in teatro e quindi ogni singola possibilità di movimento del corpo e quindi ogni singola possibilità di movimento o dell'uso della voce o dello spirito ogni forma di linguaggio sono tutti ugualmente legittimi persino nelle più grandi misti nelle più grandi fusioni se servono lo scopo di portare qualcosa in vita ma la morte del teatro è il momento in cui cominciamo a interessarci di stile di metodo nel testo nella tecnica della regia nelle scuole nelle differenze tra Oriente e Occidente nessuna di queste può prendere tutti i nostri interessi ciò che ci interessa è che cosa queste portano all'esistenza che cosa portano in vita questo ci riconduce al momento attuale al momento attuale una cosa è giusta e milioni di altre cose non sono giuste ma il momento successivo magari quelle milioni di cose sono necessarie ecco perché tutto cambia tutto il tempo quindi per creare una relazione tra questo è qualcosa di molto diverso ci sono state molte domande su incontri con uomini straordinari nel libro di incontri e nel film vediamo la vera storia di un giovane una profonda intuizione che c'è un significato umano che come da giovane non poteva trovare nella scienza anche se era molto affascinato dal mondo scientifico che non poteva trovare nel mondo della religione anche se era profondamente attaccato al mondo della religione quindi la storia ci racconta di come egli cominciò a cercare e quindi la storia lo ha portato a attraversare parti del mondo attraversare l'Asia incontrando persone straordinarie e chiedendo, facendo delle domande e ogni volta qualunque fosse la risposta ogni volta sentiva che c'era qualche altra cosa che non era ancora la risposta che lui cercava e continuando a cercare in questo modo andò sempre più dietro sempre più in profondità oltre le credi accettate il credo accettato le teorie accettate le forme accettate cominciò a scoprire il legame tra l'aspetto visibile della vita e le energie che sono nascoste dietro tutto ciò che è visibile ha cominciato a stabilire una conoscenza molto ricca e Gurdjieff ha cominciato a comunicare questo ad altre persone ad una condizione alla quale è stato fedele per tutto il resto della sua vita fondamentalmente la condizione era questa dopo aver cercato per anni egli stesso questa comprensione la condizione con gli altri era anche tu devi cercare io posso aprire certi territori in modo che tu li esamini ma tu li devi esaminare tu stesso e non credere a nulla finché non l'hai sperimentato finché non l'hai vissuto tu stesso attraverso la tua esperienza ecco perché è impossibile prendere gli scritti di Gurdjieff o cose che altri hanno scritto su Gurdjieff e trarne un metodo e applicare questo metodo al proprio lavoro è esattamente l'opposto Gurdjieff ha sviluppato molte molte diverse pratiche e alcune di esse sono molto semplici ma all'epoca suo erano molto rivoluzionari un secolo fa più di un secolo fa era convinto che poteva sorgere una nuova comprensione se le persone avessero lavorato in gruppo più che da soli ora in teatro questo è stato provato in tutto il mondo ci sono accorti anche senza sapere nulla di questo quanto era stato detto fin qui che lavorare in gruppo è molto molto più forte che lavorare nel sistema del grande attore dello star più si lavora con un gruppo di persone in teatro più si scopre e si riscopre che nulla accade per caso ci sono dei motivi per cui delle energie appaiono o non appaiono e nel lavoro in teatro questo accade molto naturalmente quindi lavorando in teatro in questo modo si vede che c'è qualcosa nella vita intera di cui Gurdjieff parlava ai suoi allievi che è evidente che si mostra ogni giorno nella semplice pratica quotidiana sono fatti osservabili molto semplici ma chiunque chiunque commetta il grande errore di prendere l'insegnamento di Gurdjieff o di qualche altro maestro e di voler applicare di voler applicare questo al proprio lavoro si renderà conto e troverà esattamente la stessa cosa che è successo con Stanislavski con Stanislavski o con qualunque regista applicare una formula distrugge il teatro incoraggiare la vita che la vita appaia in uno spettacolo ci fa vedere che il teatro non è un evento culturale non è uno scopo di per sé è un'apertura attraverso la quale sia il pubblico sia gli attori possono capire un po' di più le forze che ci sono dietro la loro vita e in questo modo possono diventare utili applausi 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.